La difesa aerea ucraina ha abbattuto la notte scorsa 35 missili da crociera e 46 droni kamikaze russi. Lo ha reso noto su Telegram l'aeronautica militare di Kiev. Le forze russe hanno lanciato un totale di 53 missili di vario tipo e 47 vellivoli senza pilota. Shad 131. Le truppe russe hanno lanciato l'attacco con armi ad alta precisione contro gli impianti energetici ucraini che lavorano per imprese del complesso militare industriale. Gli arsenali per lo stoccaggio delle armi occidentali sono stati danneggiati. A riferirlo al ministro della difesa di Mosca citato da Ria Novosti, l'obiettivo dell'attacco è stato raggiunto, ha aggiunto il ministero. Il dipartimento militare ha sottolineato che si tratta di una risposta ai tentativi del regime di Kiev di danneggiare gli impianti energetici e di trasporto russi. Gli invasori russi hanno lanciato un potente attacco alle infrastrutture critiche in varie regioni dell'Ucraina, utilizzando misili aerei, marittimi e terrestri, nuque droni di tipo Shahed, affermati il tenente generale Mikola Oleskos, comandante dell'Aeronautica Ucraina.